Degustazione e vendita dei prodotti agricoli dall'olio al vino, sfilata dai trattori, tanti stand per mostrare le meraviglie che provengono dalla terra abruzzese. La Fiera dell'Agricoltura dal 27 al 29 si propone anche quest'anno con l'intento di valorizzare i prodotti di qualità locali e potenziare un settore primario per l'economia terramana come quello agricolo. La Fiera è tradizionalmente un momento di scambio sia economico che culturale, quindi di crescita del comparto, soprattutto in una fase come questa dove l'economia ed anche l'agricoltura in forte trasformazione. Anche la nostra agricoltura sta cercando di trovare una nuova identità, sta passando dalla produzione massiva degli anni passati invece a dare oltre che il prodotto anche servizi accompagnati al prodotto, quindi etichettatura, marchi e quant'altro. All'interno ci saranno una serie di convegni per illustrare l'importanza dei prodotti della terra come quello organizzato dal Consorzio Agrario su Alimentazione e Salute. Il Consorzio Agrario dà alla base dell'assistenza di imprese agricole due aspetti. Il primo la qualità dell'agricoltura, quindi del porre in essere una cultura, perché attraverso la qualità della cultura l'impresa può raggiungere maggior beneficio con minor costo, quindi un utile maggiore e si può dare una sicurezza poi al consumatore della qualità del prodotto che viene portato sulla tavola. Quindi si ottengono due risultati attraverso una tecnica di produzione.